Dimenticato ed abbandonato, lo definiscono così i residenti di Fano 2, il loro quartiere che ormai da diverso tempo mostra i segni del degrado e della non curanza da parte dell'amministrazione comunale. Tra i temi più accesi, la riqualificazione della fontana di Piazza Capuana, come anche l'area verde, spazi per i giovani ed infine la richiesta di più controlli. È un quartiere come altri di Fano lasciato all'abbandono, al degrado, qui si può vedere la fontana come ridotta, nel comunicato che avevamo fatto nei mesi scorsi avevamo denunciato questa situazione ma nulla è cambiato rispetto allo scorso agosto. Questo si aggiunge anche alle isole ecologiche che sono traboccanti di rifiuti, la mancanza totale di strutture di tipo sportivo o ricreativo, tant'è vero che in questa stessa piazza i ragazzi o i bambini sono costretti a giocare a pallone qui. È stato fatto uno sgambatoio, almeno così lo chiamano, ma non ha risolto neanche quel problema perché comunque ci sono escrementi di cani dappertutto. Sicuramente la riqualificazione della piazza permetterà alle persone che abitano in questo quartiere di vivere meglio il posto. Gli stessi residenti chiedono, ascoltando le parole, facendo due chiacchiere con persone che abitano nel posto, di poter utilizzare degli spazi attualmente trascurati, tipo quelli che sono dietro la chiesa, addibirli a parcheggio oppure riaprire la vecchia strada che è stata chiusa per poter circolare meglio con i propri veicoli. Da residente che cosa vorrebbe riqualificare? La fontana che è spenta da un po' di anni e poi è anche molto mal ridotta e anche il parco vicino alla chiesa che ormai i giochi sono tutti rotti praticamente e quindi è un po' un degrado, fanno due su questo aspetto. Se no è un bel quartiere, ecco. Se si aggiustano queste cosine almeno... I giovani potrebbero ritornare a vivere il quartiere? Sì, esatto. Mi piacerebbe anzitutto che il quartiere fosse riqualificato a dovere come meritano i residenti perché qui è un gran bel quartiere, direi che è il quartiere migliore di Fano, a mio modo. Ma non solo la fontana, anche il verde qui, lo stesso parco là davanti, l'erba bisogna ribatterizzarla più spesso, lo stesso sgambatorio. Sì, lo stesso sgambatorio, addirittura l'illuminazione. Io vedo girando col cane e vedo che ci sono le luci che non sono proprio funzionate. Insomma, ci dovrebbe essere più attenzione dalla parte del magistrato, non perché sia amministrato male, per l'amor di Dio, però con più attenzione sarebbe meglio.